Grazie a tutti. 3 F, 3 Clivia di Poggio, 4 Cayenne SLM, 5 Camilla Bass, 6 Corina Jet, seconda linea, 7 Cardenas Baba, 8 Chanel Trio, Antonio Di Nardo sostituisce Enrico Bellet in Salchia, Corina Jet, favori del pronostico per Camilla Bass numero 5, Manuel Pistone. 5 Maggine, macchina che accelera e stacca, partiti con la velocità iniziale di Sherry F contro Clivia di Poggio che attacca. sulla piegata passa Clivia di Poggio su Cherieff che rimane in seconda posizione avanti a Cleo Ors poi Cayenne e Selem cerca di risalire invece Chanel Trio all'esterno si è trovata scoperta a largo si trascina Camilla Bass e quindi Corina Jet e se ne vanno intanto i 400 iniziali in 31 con Clivia di Poggio in vantaggio su Cherieff e Cleo Ors Chanel Trio sempre percorsi esterni trascinandosi Camilla Bass che a sua volta è in schiena Corina Jet 600 iniziali in 46 e mezzo davanti alle tribune situazione invariata, in vantaggio è sempre Clivia di Poggio c'è la puntata in terza ruota ora di Camilla Bass che scatta un giro abbondante dalla conclusione mentre cerca di avanzare anche Corina Jet cavalli che hanno completato gli 800 l'errore intanto in testa la parte di Clivia di Poggio il chilometro è completato in 1.16.2 a questo punto in vantaggio si ritrova Chanel Trio viene però attaccata a fondo da Camilla Bass che si sta avvantaggiando a 400 dalla conclusione Camilla Bass scende alla corda è inseguita da Corina Jet indietro le altre Corina Jet accenna a spostare su Camilla Bass quando siamo al completamento della piegata ingresso sulla dritta d'arrivo con Corina che va su Camilla Bass l'impegna a fondo ai 120 finali ultime battute con Corina Jet che passa nettamente nel finale e viene a vincere su Camilla Bass mentre per il terzo è il numero 7 Cardenas Baba che ha ragione di Cleo Ors 1.15.4 il raguaglio conclusivo vince Corina Jet con Antonio Di Nardo per conto di Paolo Romanel e per la scuderia allevamenti Tognati era l'ultima corsa dal Savio andiamo a rivedere le battute conclusive Antonio Di Nardo in sostituzione di Enrico Bellei guida Corina Jet alla vittoria secondo posto per Camilla Bass Salterzo e Cardenas Baba è tutto per questo convegno di corse dal Savio l'appuntamento è per martedì prossimo A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti